Signor Presidente Monti, questo dibattito cade in un momento cruciale per il nostro Paese che, fuori da ogni nascondimento dietro il sottile velo del lessico economicistico, vive una troppo lunga stagione di impoverimento e si appresta a vivere tempi in cui la speranza di una ripresa appare ancora bandita dalle parole del suo Governo. 400.000 nuove famiglie, prive del reddito da lavoro per licenziamento dell'unica unità attiva negli ultimi due anni, raccontano il dramma degli italiani con una crudezza assai più diretta di ogni analisi macroeconomica ed il dramma degli esodati, il suo incerto balletto di numeri, si offre come simbolo triste di questa stagione. Abbiamo, signor Presidente, ascoltato e apprezzato le sue parole. Abbiamo sempre considerato l'Unione degli Stati Europei come una necessità storica, come la naturale evoluzione di una vocazione, bisognosa di una sanzione politica che ancora stenta aggiungere. Abbiamo creduto nell'Europa dei popoli, nell'Europa dei pari, senza egemonie. Ma non abbiamo mai privilegiato l'Europa dei banchieri, né quella degli speculatori di chi sta conducendo una guerra senza averla dichiarata contro le sovranità nazionali, contro i popoli. Nessun europeista sincero potrà mai condividere sistemi che cancellano la sovranità di un Paese come la Grecia, stremando nel popolo, con presagi altrettanto cupi incombenti nella vicina Spagna. È probabile, allora, che la Germania accetti di fare qualcosa perché l'euro non crolli, se non altro perché diversamente la Bundesbank si ritroverebbe con più di mille miliardi di crediti non esigibili nei confronti della periferia europea. Ma il problema per il sistema Italia si chiama debito pubblico e premio di rischio che il nostro Governo deve pagare. Come potremo mai recuperare in competitività se continueremo a pagare svariati punti percentuali più della Germania? Signor Presidente, siamo al giro di boa epocale. O l'Europa, la Banca Centrale Europea, accetta di intervenire acquistando grandi quantità di debito pubblico italiano garantiti dal Fondo Salva Stati, sto finendo, Presidente, oppure sarà difficile risalire la china. Crediamo in lei, signor Presidente, e diffidiamo dei troppi ignomi che attraverso la finanza manipolano il nostro destino. Faccia sentire la voce della ragionevolezza in Europa prima che sia troppo tardi.